E se non sarà Fellini, te te siga o Rossellini, basta che sto qua a Cinecittà Nuova puntata del mio format importantissimo Commedia all'Italiana. Nella scorsa puntata abbiamo definitivamente salutato il 1961 parlando del film I due nemici per la regia di Gay Hamilton. Con questa puntata allora ci affacciamo al 1962 e lo facciamo parlando ancora una volta di un film interpretato da Alberto Sordi che in qualche modo è stato indubbiamente uno dei più grandi esponenti della Commedia all'Italiana, il padre della Commedia all'Italiana tra gli attori, tra i mostri, tra gli istrioni e i numerosi film di cui sto parlando da lui interpretati come protagonista lo dimostrano. Oggi parliamo di un film del 1962 diretto da Alberto Latuada e cioè mafioso, interpretato come detto da Alberto Sordi come protagonista insieme a Norma Bengel che interpreta sua moglie e Ugo Attanasio, in particolare un'interpretazione molto molto importante, nei panni di Don Vincenzo. Di cosa parla mafioso? Ovviamente il titolo è molto eloquente, ma qual è la trama di questo film? Di grande successo inserito nella lista dei 100 film italiani da salvare, ovvero quei 100 film che hanno cambiato la memoria collettiva del nostro paese, usciti in Italia tra il 1942 e il 1978. Antonio Nino Badalamenti, interpretato da Alberto Sordi, è un siciliano interpretato magistralmente da Sordi. Ovviamente nonostante lui sia stato un grandissimo romano, nonostante lui abbia incarnato la romanità ecco che si cala nei panni di un siciliano doc dimostrando e confermando una volta tutta la sua duttilità. È un siciliano emigrato al nord e che ha fatto fortuna di fatto al nord sia a livello personale sia a livello professionale perché non solo lavora e ha una situazione economica soddisfacente ma tra l'altro ha anche una moglie interpretata da Norma Bengel e due figlie. Per la prima volta finalmente Nino ha la possibilità di esaudire un suo desiderio cioè portare la moglie e le due figlie nella sua terra, far vedere a sua moglie e alle sue due figlie la sua famiglia, la sua Sicilia e far conoscere la sua famiglia per cui aspetta con ansia l'arrivo delle vacanze estive per finalmente partire e tornare a casa. Con questo viaggio molto sentimentale, molto nostalgico da parte sua Antonio parla sempre con grande affetto, con grande malinconia, con grande sensibilità della sua Sicilia in qualche modo la idealizza anche forse non tenendo conto o non volendo tenere conto di alcuni aspetti magari un po' più complessi e sicuramente oscuri, bui, della sua Sicilia. Prima di partire però viene convocato dal suo capo, un italiano-americano che gli dà in custodia un pacco da consegnare a Don Vincenzo uomo molto importante della sua città, del suo paese siciliano e che insomma probabilmente è anche un uomo che ha a che fare con la malavita ma questo Antonio non lo sa o cerca di convincersi che non sia così. Vediamo un Antonio che dimostra sempre nelle parole, nei ricordi, negli atteggiamenti una sorta di ammirazione totale nei confronti di Don Vincenzo come se fosse una sorta di Dio sceso in terra e ne parla sempre con grande ammirazione. Antonio è un uomo assolutamente per bene, un uomo che dalla Sicilia ha ripreso tutto il bene possibile, la semplicità, l'amore per le piccole cose ma è soprattutto un uomo onesto che poi andando al nord chiaramente si è affermato, fortuna che magari non è capitata a tutti ma della sua terra ha ripreso le cose più belle. Però possiamo immaginare che sia consapevole di tutti i lati bui della sua Sicilia probabilmente non vuole ammetterli soprattutto agli altri, in particolare ai suoi cari e poi neanche a se stesso, per cui parla sempre di questo Don Vincenzo che poi noi vedremo a un certo punto del film in poi interpretato da Ugo Attanasio con grandissima ammirazione, come se fosse un uomo per bene straordinario che per lui è stato molto importante tra l'altro durante soprattutto la sua infanzia, la sua adolescenza, la sua giovinezza. Tornerà dunque in Sicilia con la moglie e le due figlie e subito ci saranno delle situazioni molto divertenti che il film ci mostra, ci presenta una su tutte penso alla scena più divertente, la scena anche più intelligente a livello di comicità, quella del pranzo in cui tutti i parenti di Antonio, la madre, il padre, lo zio, i cugini tra cui questa Rosalia che è una giovane donna con i baffi e questo segno distintivo ovviamente ci fa capire la differenza magari tra la moglie che è una donna così affascinante, tutta precisa, curata e poi questa giovane donna siciliana che ha i baffi e che sicuramente si lascia molto più andare fisicamente rispetto ad una donna emancipata e affermata del nord e quindi tutti questi personaggi divertenti, attori anche presi dalla strada un po' come la grande cultura del neorealismo ma anche della prima commedia italiana ci insegna e quindi terra terra, attori assolutamente credibili, caratteristi del posto sono tutti riuniti a tavola, mangiano, bevono, si divertono e a un certo punto la moglie di Antonio comincia a fumare una sigaretta e tutti la guardano stranita perché? Perché, questo Antonio lo spiega la moglie non sono abituati a vedere una donna che fuma e questo è un altro segno distintivo che sottolinea la differenza tra nord e sud soprattutto di quegli anni ovviamente un momento storico molto complicato in cui le differenze anche di abitudini, di emancipazione, di modernità insomma erano decisamente evidenti quindi non sono abituati a vedere una donna che fuma allora lei dice, beh, se non dà fastidio a me a fine pasto piace sempre fumare una sigaretta e tutti scoppiano a ridere perché in realtà il pasto non è assolutamente finito semplicemente hanno mangiato un po' ma dovranno mangiare ancora, ancora, ancora solo che lei da donna del nord è abituata a dei pranzi a dei pasti molto più brevi sicuramente non è abituata a stare a tavola ore e ore e ore come invece succede ovviamente al sud quindi tante differenze e quella è indubbiamente una delle scene più divertenti dopodiché ovviamente Antonio vorrà andare a salutare a rendere omaggio a Don Vincenzo il quale però si farà un po' desiderare inizialmente finché poi non si incontreranno Don Vincenzo come detto interpretato da un grandissimo Ugo Attanasio che a mio modo di vedere fa la differenza in questo film un napoletano che interpreta anche lui un siciliano doc in maniera perfetta assolutamente si incontreranno e Antonio mostrerà a Don Vincenzo tutta la sua vicinanza e tutto il suo affetto la sua riconoscenza sicuramente anche per diciamo l'importanza che aveva ricoperto Don Vincenzo in passato per la sua vita e dirà anche una frase che forse avrebbe potuto evitare di dire cioè Don Vincenzo io per voi farei qualsiasi cosa e Don Vincenzo resterà molto colpito da questa frase che lo farà riflettere probabilmente Don Vincenzo deve liberarsi di una persona ecco abbiamo capito che Don Vincenzo è un mamma santissima è un boss mafioso non è assolutamente una brava persona poi che Antonio lo sappia o meno che non se ne voglia capacitare insomma comunque Don Vincenzo appartiene alla malavita ed è un pezzo grosso della malavita della mafia siciliana anni 60 e riflette sul fatto che ovviamente sarebbe l'ideale se una persona sconosciuta che vive lontano che non fa parte del giro mafioso che nessuno ha mai visto che comunque non si vede in paese da tanti tanti anni svolgesse questo lavoro per lui rimane dunque colpito dalle parole di Antonio e decide di affidare a lui il caso Antonio dovrà recarsi in America negli Stati Uniti per uccidere quest'uomo di cui Don Vincenzo deve evidentemente liberarsi allora non vi svelo il finale che è tra l'altro molto importante toccante con una recitazione assolutamente straziante da parte di Alberto Sordi che è straordinario per tutto il film ma sul finale lascia veramente il segno con la sua interpretazione Antonio a sua insaputa perché gli verrà consegnata una lettera e gli si farà credere che lui debba semplicemente consegnare una lettera in realtà poi verrà portato in America e insomma quello che succederà ve lo lascio scoprire godendovi questo film importante questo film all'avanguardia questo film scomodo per l'epoca questo film che non era assolutamente scontato che si potesse scrivere realizzare dirigere interpretare nel 1962 la mafia il cinema italiano l'ha sempre raccontata ma soprattutto nei decenni successivi un film del genere nel 1962 una fotografia ancora una volta che questa commedia all'italiana fa del periodo storico e di una Sicilia molto molto complessa sicuramente pericolosa per certi versi senza generalizzare ma insomma di una parte buia in generale della nostra società non era assolutamente scontato che potesse arrivare nelle sale il film ebbe un grande successo e come detto la critica lo acclamò ed è stato poi inserito anche nella lista dei 100 film italiani da salvare ovviamente ha ricevuto anche delle nomination dei premi su tutti va sottolineato il mio modo di vedere la nomination al nastro d'argento per il miglior soggetto a Bruno Caruso autore del soggetto di questo film perché effettivamente l'idea che colpisce l'idea che è rivoluzionare l'idea che fa la differenza più di qualsiasi altro elemento nel film poi c'è tutto il resto e c'è una grandissima sceneggiatura curata tra gli altri anche da Marco Ferreri e Agee Scarpelli per cui sicuramente una certezza e poi il cast che è un cast sicuramente meno ampio di altri film è un cast che si fa forte dei caratteristi scelti sicuramente anche sul posto in Sicilia che contribuiscono a rendere il film assolutamente realistico assolutamente specchio della società del tempo un grandissimo Alberto Sordi nei panni di un uomo siciliano così ingenuo buono di cuore attaccato alla sua terra ma che cerca di non pensare di non dare peso ai lati bui delle usanze insomma delle situazioni più spiacevoli e difficili della sua Sicilia che poi è emigrato al nord e si è rifatto una vita ma che in qualche modo resta sempre legato nel bene e nel male alle sue origini poi una bravissima Norma Bengel ottimo anche il doppiaggio le figlie e come detto un grandissimo Ugo Attanasio che a mio modo di vedere è la ciliegina sulla torta di questo film con una grandissima interpretazione una commedia italiana molto importante essenziale per l'epoca come spesso è accaduto per quanto riguarda i film interpretati da Albertone ma in generale per il cinema italiano del tempo e la commedia italiana soprattutto nel suo periodo d'oro un film che anticipa i tempi e che inevitabilmente segna la storia del cinema italiano fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate ma se non aveste ancora visto Mafioso di Alberto Lattuada recuperatelo assolutamente ciao a tutti e sempre viva il cinema italiano